È iniziato il 2021 da meno di 30 giorni e non è ancora successo nulla di brutto! Complimenti! Cosa significa un virus più contagioso? Vabbè, più o meno. È stata la decisione di ritirare i due ministri che di fatto ha aperto questa crisi di governo perché... Vabbè, vabbè, ho capito. Iniziamo, va. Fatte il cazz... Qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram questo. Cosa vi aspettate dal 2021? Scrivetelo qui perché potrebbe diventare una nuova puntata dello sfogo. L'ho sfogo! In 4K! Come? Ah, non puoi vedere il 4K perché non hai un monitor che lo supporta? Ma ce li hai i soldi? Secondo me è perché hai speso troppi soldi in cose inutili. No, ho comprato un cavallo! Tornare a ubriacarmi dignitosamente. Il sabato sera. Bei tempi. Io non reggo l'alcol. Essere ricco. Tu mi sa che sei uno di quelli che il 4K non ce l'ha, eh? Lo sai che se ti trovo in giro in macchina io ti tiro sotto? Una gioia, ma anche due. Sì, vabbè, manco che Sfere del Drago. Non posso. Ecco appunto. Passare. C'è una pandemia in corso e tu pensi soltanto alla tua carriera scolastica? Sei un pezzo di me. L'avrei fatto anch'io. Una cagata lazzesca. Lazzaes... Laz... Ma intendevi pazzesca? Non capisco. Secondo me è pazzesca. Pazzesca? Sì, secondo me sì. Ma che problemi ha di scrivere così? Cosa volevi dirmi con questo messaggio? È una richiesta d'aiuto. Rivelati. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Una scuola che insegna eguaglianze di ogni tipo, sicura e al passo con i tempi. Ma che sta dicendo? Sei vabbè a sto punto. Daremo mille euro a persona. Così, a caso. Due mila! Bravo! Non dovere più usare le mascherine per uscire. Sono d'accordo con te. Basta che non mi diventi un non-mask. Grazie che me l'hai codato. Niente, tutto uguale a prima. Una merda. Buongiorno principessa! Vabbè, guarda il lato positivo. Se non ti aspetti niente dalla vita, non puoi restare delusa. Non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Questo 2021 non è iniziato nel migliore dei modi, ma sono sicuro che migliorerà. Madonna mia, che ansia terribile. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like qui sotto, iscriverti al mio canale, al canale di Scuola.net. Sì, sì, no, ma me lo segni proprio. Altrimenti niente versioni di latino. E qui la situazione cambia. Vabbè, ciao. Action! 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 Grazie.